La libertà non è un sogno, ma una conquista. Così si intitola il programma di eventi dedicato al 75esimo anniversario delle quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare che dal 27 al 30 settembre del 1943 portò alla liberazione della città dall'occupazione nazifascista. La giornata di celebrazione si è aperta al mausoleo di Posillipo, dove il sindaco De Magistris, insieme ad autorità civili e militari, ha assistito alla deposizione delle corone di Alloro per celebrare gli eroi cittadini che hanno sacrificato la propria vita per la libertà di Napoli dall'oppressione nazifascista. Noi siamo orgogliosi di essere stato il primo popolo a liberarsi dall'oppressione nazifascista. L'abbiamo fatto 75 anni fa, ribellandoci all'oppressione ingiusta e quindi grande sede di giustizia e per la voglia di libertà. Il momento di raccoglimento è proseguito alla lapide di Piazza Bovio, che commemora i quattro militari uccisi dalle truppe tedesche, per poi concludersi in Piazza Carità, in ricordo di salvo d'acquisto.